Eccoci di nuovo assieme, seconda parte di Angoli con noi questa sera, perché a buona memoria dalla settimana scorsa è tornato a trovarci Paolo Guatelli, make-up designer. Ciao Virginia, buonasera a tutte le nostre amiche. Con te hai portato una studentessa, modella per una sera, Alessandra Russo. Buonasera anche a te. Buonasera. Allora, ci eravamo lasciati la volta scorsa raccontando anche la tua capacità di creare cosmetici e quindi di inventarti anche delle collezioni di make-up. In particolar modo, raccontiamo un po' meglio la tua idea del beauty box. È un brevetto internazionale, l'hai inventato tu, tutto italiano, quindi crei colori e crei anche la trousse che li contiene, che devo dire è molto pratica. Ti ringrazio, sì, in realtà ecco un punto che mi interessa specificare è proprio l'italianità del progetto, tutti i prodotti sono made in Italy, il marchio è il mio, porta il mio nome, ma la B-Box è questo contenitore che più che una trussa è un assistente personale, proprio perché permette di modificare le configurazioni in funzione delle esigenze personali. Ha degli spazi che permettono anche l'inserimento dei prodotti, tra virgolette, più ingombranti e in base, ripeto, alle esigenze personali può essere configurata con anche delle cover di colori diversi. Non a caso ricorda uno smartphone, infatti molti pensano che uno abbia uno smartphone, in realtà, vediamo se riesco a prenderla senza far cadere tutto, in realtà ha le cover intercambiabili come gli smartphone. e all'interno può contenere tutti i prodotti che servono quotidianamente ad ogni donna e ogni donna ha esigenze diverse e quindi la combinazione dei colori, grazie a questa piccola bocca così divertente, può essere modificata veramente in pochi secondi e, diciamo, tirando fuori o inserendo i vari colori. Ripeto, il packaging è anche italiano, ritengo che noi italiani, al di là dell'inventiva, al di là della moda, al di là del make-up, dobbiamo portare avanti quello che è la produzione italiana, in questo caso non solo del contenuto ma anche del packaging, quindi un prodotto e un marchio 100% made in Italy. Bene, complimenti, anche perché devo dire che è molto pratico e bene ci viene anche in aiuto nel raccontare quelli che possono essere, secondo te, i trucchi must have, fondamentali da avere sempre con sé in borsetta. A che cosa non si può proprio rinunciare per avere un bel volto? Allora, sicuramente, come ho già detto anche nella scorsa puntata, vediamo se Alessandra si ricorda, il fondotinta, bravissima Alessandra. Lei oggi non ha fondotinta, ma no, in realtà ce l'ha, scherzo. Ok, ti stavi smentendo subito. Anche perché, anche perché, sveliamo un segreto, aveva due brufolini che sono saltati fuori proprio oggi per farci un dispetto perché voleva sfidarmi. D'altra parte l'adolescenza. Esatto, ma anche io, infatti, anche nella mia adolescenza ogni tanto ho dei brufoli. Se vedi anche io li ho qua sotto, li hai nascosti benissimo ma ci sono. E quindi vedi, il fondotinta ci ha aiutato. Il fondotinta, al di là del coprire gli eventuali brufoli, è comunque, ricordatevi sempre, mi raccomando, un compagno quotidiano, un amico quotidiano che, oltre a farci apparire più belle, protegge la pelle, proprio perché le formulazioni moderne contengono i fattori idratanti, filtri solari, principi attivi. Quindi, assolutamente, che poi sia in formula BB Cream, quindi molto leggero, che sia più o meno coprente, sia fluido, sia compatto, l'importante è che sia di qualità. Quindi, primo prodotto da usare tutti i giorni è avere sempre con sé il fondotinta. L'altro prodotto è il mascara, mascara nero. Poi, se volete usare quelli blu, rossi, gialli, verdi, divertitevi quando volete. Ma il mascara nero, sia sulle more come The Virginia, sia sulle bionde come Alessandra, è molto importante, proprio perché, a prescindere dal trucco che si realizza sugli occhi, scurisce le ciglia, crea contrasto rispetto alle palpebre e rende più intenso lo sguardo. Terzo prodotto, assolutamente rossetto gloss, qualcosa, un prodotto per le labbra. Questa corrisponde poi anche alla sequenza quotidiana, cioè non c'è bisogno di mettersi 20 prodotti tutti i giorni. Un buon fondotinta, un mascara, un rossetto o gloss e, come quarto prodotto, eventualmente un fard, per non stare a usare il rossetto come facevano le nostre nonne una volta, il fard completa la sequenza di prodotti must have. Ecco, peraltro nel fototipo chiaro, che rappresenta Alessandra, la volta scorsa ci eravamo concentrato sul tipo invece mediterraneo, tu sei un po' più nordica, un po' questo sottotono freddo, all'occhio chiaro. Devo dire che sei andato anche parecchio leggero con il trucco. Leggerissimo in questo caso, se sulla ragazza che c'era la settimana scorsa, non mi ricordo il nome, Nicole, la bellissima Nicole, ho lavorato in modo abbastanza intenso sugli occhi, su Alessandra ho puntato sulle labbra. Vedi il rosso, il rosso che è un colore che una volta era riservato a occasioni particolari, oggi è un colore che tutte dai dieci anni in su, per chi usi trucca dieci anni chiaramente, va tantissimo, tutte le declinazioni dei rossi sono importanti, nel suo caso toni freddi, il rosso ha anche una tonalità leggermente più fredda e quindi non è nemmeno troppo scuro, perché altrimenti creerebbe un contrasto eccessivo per questo tipo di trucco. Sugli occhi invece ho puntato sul riflesso, non tanto il colore, non tanto la saturazione, non tanto le sfumature, ma la luminosità e in questo caso ho applicato un prodotto in automatic pencil, è una specie di stilo, una matita a stilo, che è molto perlato e una volta applicato si fissa e dura tantissimo, quindi è perla, non c'è colore, c'è grande luminosità, può essere in matita a stilo o può essere in una flaconette, vediamo se ce l'ho qua, sì, ecco, chiaramente anonimo, ma questo tipo di prodotto dà una grande luminosità, si fissa sulle palpebre e dura tutta la giornata, sfumato dall'effetto, passatemi il termine, brillantino, pieno da un effetto metallizzato che è molto di moda che propongo anche proprio come tendenza per la primavera-estate 2017. Tonalità i rosati, rosati, eventualmente oro, non troppo giallo e come sempre il marrone, il marrone va bene logicamente sulle mediterranee o anche sulle nordiche, quindi sia sulle tonalità calde che sulle tonalità più fredde. Una cosa vi faccio notare, le sopracciglia. Su la nostra amica Nicole, ho definito le sopracciglia, le oscurite molto, su di lei, anche se si usano le sopracciglia molto scure, hai visto che ho preferito non contrastare troppo, ho lasciato predominare le labbra e lasciare armonia tra sopracciglia e trucco degli occhi. Certo. C'è da dire che tra i consigli così più diffusi di trucco forse c'è quello di, se carico molto le labbra, sto un po' più low profile sullo sguardo. È vero? Sì, diciamo che è una regola che vale sempre, a prescindere dalle mode, ed è un consiglio che mi sento di dare assolutamente anche a casa. È vero, altresì, che soprattutto quest'anno abbiamo assistito sull'autunno-inverno, anche ad abbinamenti molto forti, quindi colori, nel tuo caso, vedi, io ho truccato gli occhi di verde e abbiamo visto anche spesso anche le labbra rosse. Personalmente una cosa è il realizzare trucchi per serate particolari, per sfilate, però il consiglio che do a casa è sicuramente quello di mantenere vivo questo consiglio, cioè quello di puntare o sugli occhi, giocando con tutti i colori che volete e sull'intensità che volete, oppure labbra rosse, belle intense e gli occhi decisamente più leggeri. E quel che dicono invece riguardo alla dimensione della propria bocca, delle labbra, il rosso tende a, comunque, come tutti i colori scuri, a rimpicciolire, quindi è bene da evitare per chi ha labbra sottili. Ma in realtà non è neanche così, perché dipende dalla luminosità del colore, del rossetto. Se io uso un rossetto opaco, rifletto meno la luce e quindi c'è il rischio che risultino più sottili. In realtà sono i colori molto scuri, cioè quando parliamo di melanzana, di vinaccia, che sono rossetti che vanno molto di moda, a quelli sì, cioè molto molto scuri, mettono in evidenza quella che è la proporzione reale delle labbra e quindi le riducono. Il trucco sta nel modificarle leggermente, se si vogliono usare sempre questi colori scuri, e ingrandirle prima con la matita. Però in assoluto sì, se le labbra sono sottili, meglio evitare più che i rossi in generale i colori scuri. Se le labbra sono carnose, fate quello che volete. Benissimo, allora ci hai dato un sacco di validi consigli. Devo dire che siamo in attesa anche di vedere da telespettatori anche i tuoi prossimi tutorial nel programma a cui partecipi Detto Fatto. Detto Fatto, sì, io sono un veterano di Detto Fatto, ormai sono la quinta edizione, sono presente praticamente dalle prime puntate di quattro anni fa, e devo dire che è diventata una grande famiglia. È un programma che ha, diciamo, avuto e ancora sempre più successo. È un programma di intrattenimento dove veramente noi, diciamo, professionisti non andiamo tanto per dimostrare quanto siamo bravi noi, ma andiamo per aiutare il pubblico a casa a riprodurre e a fare a casa quello che noi facciamo vedere sul programma. Questa è la chiave, secondo me, del successo, i vari contenuti e, logicamente, la grande capacità della conduttrice Caterina Balivo che trasferisce questa spontaneità che il pubblico molto apprezza. Lei, chiaramente, con il grande, mitico Giorgio, Giampaolo Gambi e tutti i personaggi che sono presenti tutti i giorni in trasmissione. Ma faccia anche un po' di gossip, appunto. Ti è mai stato richiesto un trucco particolarmente difficile? Oppure, viceversa, hai trovato nella persona che volevi truccare qualche reticenza? Si sa che magari anche si è affezionati a vedersi in un certo modo, a un proprio prototipo di immagine e magari si è più reticente a sperimentare. Questo in generale in trasmissione? Perché in trasmissione la parte più difficile sono le tempistiche, cioè il programma è praticamente in tempo reale, quindi bisogna realizzare il trucco quasi completamente, diciamo completamente, in 14-15 minuti. Quindi il tempo del nostro blocco. A me è andata bene oggi che non ho dovuto truccarvi in tempo reale, però in realtà è proprio quella la sfida. In generale, quando trucchi una persona, devi capire un po' anche la psicologia, cioè se capisci che quella persona ha bisogno di un cambiamento o immediato, forte o di un cambiamento graduale. Logicamente, a livello televisivo, c'è bisogno del cambiamento palese perché c'è proprio il prima e dopo che va fatto vedere ed è importante che si noti molto la differenza. Nella quotidianità, con la clientela che chiede una consulenza di make-up therapy, sai che io parlo sempre di make-up therapy, si tratta invece di un percorso a volte graduale, in modo tale che la persona acquisisca consapevolezza della propria bellezza reale, al di là di quella che è l'idea che ha inizialmente di se stessa. E grazie alla make-up therapy si riesce a lavorare con semplicità, con amore, sugli aspetti più profondi della persona. È vero, vedersi bene a posto fa sicuramente benissimo anche all'umore. Allora Paolo, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa sera, ringrazio anche te Alessandra per esserti prestata come modella e ti invito Paolo a tornare a trovarci, anche proprio per dare dei consigli su come vedersi meglio. Tu hai parlato anche la volta scorsa del fatto fondamentale, quello di sapere individuare i propri punti di forza e valorizzarli. Quindi torna a trovarci pensando proprio a come farci riconoscere quali sono i nostri punti di forza e come esaltarli. Volentieri, appena posso torno a volentieri, grazie a te. D'accordo, il tuo indirizzo internet lo ricordo velocemente, paologuatellimakeup.com, eccolo qua. Grazie ancora. Ciao a tutti. Con Angoli l'appuntamento come sempre domani alle 19. Adesso tutte le notizie di ETG prima pagina, poi a seguire Target. A domani. Grazie a tutti.